Musica Napoli, Max e Blitz all'alba, centinaia di arresti, scacco matto ai clan Contini, Mallardo e Licciardi. A Vellino controlli estesi dei carabinieri sul commercio di prodotti derivati dalla canapa. Nuovo servizio dell'asle di Caserta, stop a file attese con un'app, si può prenotare o soffrire dei servizi online. Scoppia l'afa in campagna a Napoli tra le città più calde e le avvertenze dal Ministero. Da Benevento a Caserta continua la marcia della fiaccola delle universiadi. Nuova edizione del Media News ha ben ritrovato, lo abbiamo appena sentito all'alba. Un'imponente operazione dei carabinieri del ROS del Comando Provinciale di Napoli ha portato all'arresto di oltre 100 esponenti dell'alleanza di Secondigliano e al sequestro di beni su tutto il territorio nazionale per circa 130 milioni di euro. 126 arresti contro l'alleanza di Secondigliano, un'imponente operazione nei confronti di affiliati ai clan Contini, Mallardo e Licciardi in tutta Italia e in alcuni stati esteri, dalle prime luci dell'alba. L'indagine condotta dai carabinieri del ROS di Napoli, dalla polizia e dalla DIA ha permesso anche di sequestrare un ingente patrimonio nei confronti delle persone colpite dai provvedimenti cautelari emessi dal GIP di Napoli. La Guardia di Finanza ha messo i sigilli a beni mobili ed immobili riconducibili ai clan dell'alleanza per un totale di circa 130 milioni di euro. Si tratta di uno dei colpi più duri inferti dalle forze dell'ordine e dalla magistratura al cartello criminale fondato alla fine degli anni Ottanta dai boss Edoardo Contini, detto romano, Francesco Mallardo, soprannominato Ciccio e Carlo Antonio, e da Gennaro Licciardi, alias Ascigna. Il blitz ha interessato non solo la provincia di Napoli e altre ragioni italiane, ma anche diversi stati esteri, dove i militari dell'arma tramite l'Interpol si sono avvalsi della collaborazione delle locali forze di polizia. Le indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia partenopea hanno portato la contestazione agli indagati di numerosi reati che vanno dall'associazione di tipo mafioso al traffico di sostanze stupefacenti, dall'estorsione all'usura al riciclaggio ad altri gravi reati. Di fatto, secondo il PM Antimafia, Ida Teresi, Alessandra Converso e Maria Sepe, coordinate dalla procuratoria aggiunto Giuseppe Borrelli, sono stati ricostruiti gli assetti gerarchici interni all'alleanza di Secondigliano e sono stati documentati numerosi reati commessi dagli affiliati, indicatori della pervicace capacità di intimidazione esercitata sul territorio, in alcuni casi anche di ingerenza all'interno di strutture pubbliche. L'ospedale San Giovanni Bosco era diventato la sede sociale dell'alleanza di Secondigliano. Gli uomini dei Contini controllavano il funzionamento dell'ospedale, dalle assunzioni e gli appalti alle relazioni sindacali, lo ha detto il procuratore di Napoli Giovanni Melillo nel corso della conferenza stampa sul Maxi Blitz. In sostanza ha sottolineato Melillo l'ospedale era diventata la base logistica per trame delittuose come per le truffe assicurative attraverso la predisposizione di certificati medici falsi. Celebrati in forma privata i funerali della piccola Yolanda, la bimba di otto mesi di Sant'Egidio del Monte Albino, morta in circostanze ancora da chiarire qualche giorno fa. Oggi l'udienza di convalida presso il carcere di Forni per il padre della piccola in stato di fermo con l'accusa di omicidio aggravato. Chiedere perdono alla piccola Yolanda Passariello affinché insegna a riscoprire il valore della vita, della convivenza, la pace, perché ciò non accada mai più. Monsignor Giuseppe Giudice ha rimarcato la necessità di riconciliazione durante i funerali della bimba di otto mesi, morta nella notte tra venerdì e sabato scorso a Sant'Egidio del Monte Albino. Funerali celebrati in forma privata nella cappella del cimitero di Pagani. Intorno alla bara bianca si sono stretti la mamma di Yolanda e i familiari. Tra i banchi presenti i sindaci di Sant'Egidio e di Pagani, Nunzio Carpentieri e Alberico Gambino. Il vescovo della riocesi di Nocere Inferore Sarno con la sua presenza ha voluto far sentire l'affetto della chiesa, dell'intero agro sconvolto dalla morte di Yolanda. La sua innocenza ha esordito Monsignor Giudice paragonando la bimba ad una fragile ostia ci suggerisce parole di pace. Poi ha aggiunto, come vescovo vi invito al silenzio, che non è omertà, che non è paura. Questo momento non sia emotivo ha detto, è passato, ci dimentichiamo e poi aspettiamo la prossima tragedia. Il vescovo non ha alzato i toni, ha le parole forti, ha preferito pronunciare parole che fossero carezza, un accompagnamento per Yolanda, un monito invece per gli adulti ad uscire da certe situazioni. Monsignor Giudice ha chiesto perdono alla piccola. A cominciare da me ha detto, ognuno di noi chieda perdono perché forse siamo stati distratti, forse non siamo stati attenti, forse c'è mancato lo sguardo per comprendere la realtà. Ti chiediamo perdono, ha continuato, insegnaci a riscoprire il valore della vita e della convivenza. Infine, un invito a tutti, deponiamo le armi dal cuore, impariamo la pace, evitiamo ciò che non serve. Yolanda, ha concluso Monsignor Giuseppe Giudice, noi veniamo a scuola da te, siamo impreparati, distratti e poveri, aiutaci tu a comprendere che le nostre famiglie, le nostre città, le nostre chiese devono accogliere la vita sempre, evitando il giudizio e le parole che non servono. Si è denudato davanti ad alcuni minori facendo gesti riconducibili alla sfera sessuale, è finito così in cella a Castelvolturno per atti osceni, in luogo pubblico un 53enne di origini francesi. L'uomo è stato fermato dai carabinieri, allertati dalle persone che si trovavano nella parte di Pineta adiacente via Machiavelli, dove è venuto il fatto. I gesti della 53enne senza fissa dimora hanno impaurito i minori, solo l'arrivo dei militari ha riportato la calma. Con l'accusa di sfruttamento della prostituzione, un uomo di 44 anni di Caivano è finito in carcere, mentre una donna di 38 residenti a Gricignano di Aversa è ai domiciliari. Dalle indagini partite a maggio scorso è emerso che una donna sarebbe stata costretta a versare alla coppia 150 euro al giorno e quando non provvedeva, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, veniva picchiata. Il provvedimento a carico della coppia è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord che ha coordinato le indagini. Siamo in Irpinia controlli estesi dei carabinieri, in particolare sul commercio di prodotti derivati dalla canapa. Proporzioni sempre maggiori sta assumendo in Irpinia la coltivazione di canapa appartenente alle specifiche varietà previste nel catalogo europeo, contenenti un modesto tenore di principio attivo THC da destinare agli scopi espressamente previsti dalla legge numero 242 del 2 dicembre 2016, ad esempio flori vivaistici, cosmetologici, alimentare, forniture alle industrie di semi lavorati. Nell'ambito di una campagna di controllo mirata al monitoraggio di tale fenomeno, con particolare riguardo alla commercializzazione dei prodotti derivati, i militari della stazione carabinieri forestale di Lacedonia hanno proceduto presso una tabaccheria ricevitoria al sequestro di alcune confezioni ancora integre e sigillate, contenenti infiorescenze di canapa, il cui consumo attraverso il fumo o altra analoga modalità di assunzione non rientra tra le finalità consentite dalla legge. Alcune delle bustine sequestrate riportavano in etichetta la dicitura Bomba Calabra Black Angel e Bomba Calabra Black Devil, nonché l'avvertenza vietato ai minori di 18 anni. Oltre al titolare dell'esercizio commerciale sono stati denunciati i legali rappresentanti di due ditte con sede nel Cosentino che avevano proceduto al confezionamento della merce. I controlli dei carabinieri continueranno a presidio della legalità e della sicurezza in questo mercato, sempre più in espansione. Anche il Molise ha celebrato l'anniversario numero 245 della Guardia di Finanza. È intervenuto il comandante regionale, il generale di Bricata Antonio Marco Appella, che ha assicurato il potenziamento dei controlli a garanzia della sicurezza pubblica. Le situazioni sono, a differenza forse di tanti anni fa, le situazioni del Molise sono ovviamente rapportate al territorio, però troviamo qualsiasi fenomeno di altro tipo che troviamo in altri ambiti più ampi. La difficoltà è che proprio mentre in territori si è già strutturati, anche l'approccio è già più strutturato rispetto a questi fenomeni. In Molise adesso c'è una risposta anche qualitativa adeguata. La Guardia di Finanza sta reagendo con tutti i suoi dispositivi, con tutti i suoi processi lavorativi e investigativi e con risultati che posso giudicare assolutamente lusinghieri. No, assolutamente, la Guardia di Finanza mantiene il suo assetto, anzi c'è stato un assoluto mantenimento dei livelli sia di personale che di strutture e di mezzi, sia dal punto di vista dei reparti territoriali di terra, sia del reparto di mare a Termoli, che è un romano importante, anzi è in imminente arrivo un'altra unità navale di avanzatissima tecnologia e performance che garantirà un maggiore attività di contrasto lungo l'Adriatico. Scoppia l'AFA in Campania, Napoli tra le città più calde, le avvertenze arrivano dal Ministero. Allarme caldo in Campania, bollino arancione per il caldo a Napoli giovedì 27 giugno, l'allerta arriva dal Ministero della Salute nel bollettino sulle ondate di calore. L'allarme riguarda principalmente sei città italiane, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti, Roma. In questi capoluoghi sarà un giorno da bollino rosso che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche, sottolinea il Ministero della Salute nel bollettino sulle ondate di calore. Napoli rientra nell'otto delle 16 città con bollino arancione che comprende Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. A rischio soprattutto bambini e anziani si consiglia come da prassi in queste circostanze di non uscire nelle ore più calde del giorno, di consumare pasti freschi e leggeri. Bisogna bere molta acqua e indossare capi di cotone leggeri. E-Coupet è un nuovo servizio dell'Asla di Caserta, offre ai pazienti la possibilità di prenotare una visita o di accedere ai servizi direttamente dal telefonino o dal pc. Sentiamo. L'Asla di Caserta lancia la nuova app e-Coupet che consente di prenotare comodamente da smartphone, da tablet o da pc, le visite specialistiche e gli esami ambulatoriali di cui si dovesse avere bisogno. Un cambiamento in linea con i tempi che porterà una ventata di novità nelle abitudini di centinaia di migliaia di cittadini della provincia di Caserta che non saranno più costretti a lunghe file. La piattaforma, sia app che web, potrà essere utilizzata da tutti gratuitamente. Basterà scaricare l'app direttamente dal proprio smartphone su Play Store o Apple Store o tramite pc, registrarsi e compilare tutti i campi obbligatori solo una volta. Il sistema dà la possibilità anche di registrare sotto un unico profilo i familiari di cui ci si prende cura. Per effettuare una prenotazione è sufficiente aprire i Coupet, selezionare per chi si vuole effettuare la prenotazione e inserire i codici dell'impegnativa mediante la telecamera dello smartphone o semplicemente digitandoli negli appositi spazi. I Coupet mostrerà all'utente le migliori possibilità in termini di tempo di attesa e di vicinanza alla sua residenza per l'erogazione delle prestazioni richieste. L'utente potrà comunque sempre decidere di scegliere un luogo di cura ed una data diversa dalle prime offerte. Le prenotazioni possono essere effettuate in qualsiasi momento anche al di fuori degli orari di attività degli altri canali di prenotazione. Con i Coupet è altresì possibile annullare una visita comodamente senza far file, evitando così di incappare nelle sanzioni previste. E a breve sarà anche possibile pagare le prestazioni prenotate al fine di ridurre drasticamente i tempi necessari per tutte quelle operazioni che non siano la visita stessa. Anche Caserta accoglie la torcia dell'universiade, arriva dalla città di Benevento, capoluogo che non si è fatto trovare impreparato. Bagno di folla a Benevento per il passaggio della torcia delle universiadi che ha fatto tappa nel capologo Sannita, il secondo dopo Avellino a celebrare il passaggio della fiaccola in Campania. E se in terra irpina era stato il partenio con la sua vegetazione e il santuario di Montevergine sullo sfondo ad accompagnare il percorso dei tedofori, nel capologo Sannita per la fiaccola simbolo dei giochi universitari si è trattato di un vero e proprio tuffo nella storia con un itinerario che ha toccato quasi tutti i principali monumenti cittadini. Dal teatro romano dove è partito il primo tedoforo, la pallavolista Marianna Iadarola all'arco di Traiano, passando per il Duomo, la Rocca dei Rettori e la Chiesa di Santa Sofia. Nuove gli sportivi sanniti che hanno attraversato il centro storico di Benevento con la torcia per un percorso di circa 3 chilometri. Come già ad Avellino la città ha accolto con entusiasmo la fiaccola accompagnando i tedofori lungo il tragitto. A darsi il cambio con Marianna Iadarola anche l'ex arbitro internazionale di box Domenico Meccariello, i regbisti Alessandro Valente e Giovanni Donofrio, l'azzurro della marcia Teodorico Caporasso, l'ex campione italiano di salto in lungo Marco Tremigliozzi, il calciatore Alessandro Bruno, la spadista Francesca Boscarelli. Il nono ed ultimo tratto è stato attraversato da Rossana Pasquino, campionessa europea di scherma integrata. Diversi impianti sanniti coinvolti nei giochi. Allo stadio Ciro Vigorito si terranno le partite di calcio dei tornei maschile e femminile. Nel rinnovato Paladideschi, messo a nuovo per l'occasione, si svolgeranno le gare di volley dei tornei maschile e femminile. Allo stadio Pacevecchia si terranno gli allenamenti delle formazioni impegnate nel rugby a 7. Durazzano sarà campo di gara del tiro a volo. Benevento si è pronto per quanto riguarda lo stadio, per quanto riguarda il Paladideschi che sarà rinaugurato. Una bella manifestazione, un'esemplarità per quanto riguarda il popolo beneventano che ha partecipato in maniera entusiastica in massa. L'unico neo, devo dire, il fatto che nelle immagini delle università in Campania a Napoli non c'è nessuna attestata alla città di Benevento, neppure a quella di Avellino, non c'è né l'Arco Italiano, né il Teatro Romano, in Santa Sofia. È la cosa che mi pare un po' deludente dal mio punto di vista. Sempre a Campania si fermi a metà tra Capodichino e Caserta e a Salerno e non vada oltre. E questa è una cosa che non mi piace assolutamente. Sarà una delle mie battaglie per quanto riguarda la presenza nuova della regione Campania. Erano presenti tantissime società le più importanti, da quelle del calcio al rugby, alla pallacanestro, al tennis, alla scherma. Quindi veramente lo sport era rappresentato a tutti i livelli, tantissimi giovani, tantissimi ragazzini e soprattutto in un panorama che ha entusiasmato i dirigenti delle università. La Presidente del Consiglio regionale è rimasta entusiasta di questa. Ha detto che Benevento è un gioiello e io ho avuto il privilegio di accompagnarla dal Teatro Romano fin qui sotto all'Arco di Traiano. Certo sono i nostri gioielli di famiglia che abbiamo tirati fuori e ci faranno pubblicità, faranno pubblicità a Benevento ma anche allo sport. La fiaccola intanto prosegue la sua marcia. Oggi è la volta di Caserta. Un'università. E chiudiamo con una notizia che arriva dalla Casa degli Stregoni. In corso la campagna abbonamenti in Casa Benevento, il settore più venduto e la Curva Sud seguono i distinti, salgono le vendite per la Tribuna Superiore mentre restano bassi i dati delle altre zone del Ciro Vigorito. Ricordiamo che siamo in fase di prelazione destinata agli abbonati della scorsa stagione che hanno diritto anche ad uno sconto del 10% sul prezzo totale della tessera. Dal 15 luglio partirà la vendita libera. E con questa notizia ci salutiamo e vi lascio in compagnia delle prezioni del tempo e con il resto dei nostri programmi. Arrivederci al prossimo Media News. Ben tornati ad un nuovo aggiornamento realizzato da ilmeteo.it. Previsioni per giovedì 27 giugno. Sono giornate infuocate quelle che stiamo vivendo su diverse regioni italiane a causa del dominio dell'anticiclone africano. Bel tempo su tutti i settori anche con clima affoso. Ma ecco il dettaglio elaborato come sempre da ilmeteo.it. Al nord condizioni di totale stabilità dell'atmosfera a garanzia di una giornata decisamente soleggiata caratterizzata da un cielo sereno o al massimo velato ovunque. Spostiamoci ora al centro dove avremo una presenza innocua di nubi sulla Toscana, sull'Umbria e sulle Marche mentre per il resto il cielo si presenterà del tutto sereno e terzo. Raggiungiamo infine le regioni meridionali dove il bel tempo sarà prevalente con il sole che splenderà infatti indisturbato su tutte le regioni senza alcun disturbo da segnalare. I venti soffriranno in genere con debole intensità prevalentemente dai quadranti settentrionali. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 17 gradi e non supereranno i 26 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece punte addirittura di 40 gradi al nord fino a 38 gradi al centro e fino a 36 sulle regioni meridionali.